Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui Chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio Dio infatti non ha mandato il figlio di Dio Dio infatti non ha mandato il figlio di Dio Dio infatti non ha mandato il figlio di Dio